Abbiamo convocato la conferenza stampa per rialzare il livello d'attenzione, perché sembra che non siamo alla terza ondata, ma siamo in mezzo a uno tsunami, esattamente a un anno da quando c'è stato il primo lockdown e da quando abbiamo dovuto fare gli scioperi per fermare le fabbriche per questioni di sicurezza. Beh, questo anno sembra che, durante questo anno, che si sia abbassata l'attenzione. Infatti abbiamo inviato una lettera a tutte le aziende metalmeccaniche dove abbiamo sollecitato a intraprendere tutte quelle iniziative per rialzare i livelli di sicurezza. Questo perché? Perché da una parte abbiamo le aziende che giustamente e fortunatamente stanno rialzando i livelli di produzione, non solo per recuperare quello perso nel 2020, ma perché hanno degli ordinativi importanti. A fronte di questo stanno entrando nelle fabbriche nuovi lavoratori con contratti precari. È chiaro che questo potrebbe essere un combinato disposto se la curva epidemiologica si sta alzando, che noi non vorremmo far che scoppino dei focolai dentro le fabbriche. Quindi pensiamo che le aziende debbano rialzare il livello di attenzione. Stiamo riattivando tutti i comitati e i protocolli per riaggiornarli, proprio perché molte aziende sembra che, invece di dare la priorità alla sicurezza, danno la priorità alle produzioni. Quello che noi abbiamo guardato nelle fabbriche, visto che noi continuiamo ad andare a fare l'assemblea e continuiamo a presenziare insieme ai nostri rappresentanti che ci sono, vediamo sempre che dove noi abbiamo dei rappresentanti, dove siamo presenti, c'è maggiore attenzione. In tante altre fabbriche l'attenzione ce n'è meno. Va anche detto che se l'impressione del governo, e in parte in quello del nostro Presidente della Regione, che dà come accordo vittorioso di fare i vaccini nelle fabbriche diventa complicato. Perché diciamo questo? Perché vuol dire che chi ha i soldi fa il vaccino e chi non ha i soldi non ce l'ha? Perché ci sono mille modi per poter far vaccinare tutti, perché prima bisogna capire quanti vaccini arrivano, poi bisogna capire quando arrivano e poi come distribuirli. Siccome abbiamo una struttura sanitaria che può funzionare, ci sono medici, infermieri, qui il rischio di dare vaccini alle aziende, che poi l'azienda che ha soldi e ha struttura fa vaccinare i suoi dipendenti prima di altre persone, che possono essere famiglie che hanno dei disabili, persone che hanno problemi di salute. E allora, siccome la salute non deve essere un costo, e non è che chi ha i soldi merita di avere più salute degli altri, diventa complicato. Quello che io chiederei con forza è che ci sia veramente un raccordo vero tra l'azienda e i rappresentanti dell'organizzazione sindacali, dove riscontriamo, come diceva prima Paolo, che questo si verifica. Siamo sicuramente molto più efficaci in tutti i settori dell'azienda e della vita aziendale. E all'inizio della pandemia si era riscoperto un po' questa collaborazione, che purtroppo, visto che sono ripartite le produzioni, fortunatamente anche, si tende a non collaborare più su gli RLS, con il protocollo. E sicuramente l'asticella delle attenzioni delle aziende si sono abbassate. Quindi è importante, come dire, fare un piccolo grido di allarme per riavare l'attenzione, perché siamo in piena pandemia, in piena terza ondata.